No, no, è avvoluto, è finito o no? No, si spera. No, vabbè, non finisce mai. No, è chiuso, no, è finita la buona notizia. E no, chiaramente è già cominciato se c'è la ruba per quanto riguarda gli allenatori. E il tuo nome, negli ultimi giorni, è tornato per centri mesi accostato al Milan. Ecco, un allenatore come vive le voci di mercato, ti danno fastidio, ti nervogliscono, ti divertono, hai il verbo sconica chiamato, non lo so. Sono solo voci che faccio calcio da 20 anni, sono in calcio forse anche di più, 25 anni, e da quando avevo 16 anni che sono, ho vissuto queste situazioni, quindi nel passato sono stato un calciatore della Juve, poi dell'Inter, poi del Napoli, e in effetti su squadra non ho mai giocato, quindi sono voci che si sa, e voi lo sapete forse anche più di noi, quanto a questo momento della stagione presero soltanto voci per fare un po' di corsi per esempio. Grazie.